voci.fm, il sito delle voci. Quanti film sono riusciti ad entrare non solo nella storia cinematografica, ma anche nella memoria collettiva con battute come «Gli farò un'offerta che non boccia rifiutare». Oggi parleremo del film di Francis Ford Coppola del 1972, Il Padrino. Essendo però sul sito delle voci, non parlerò del capolavoro di Francis Ford Coppola, anche perché è un capolavoro, quindi non è che ci sia molto da dire, ma mi soffermerò sul doppiaggio di questo film ed il suo ridoppiaggio. Ebbene sì, anche Il Padrino è stato ridoppiato, ma iniziamo con ordine. Nel 1972 viene chiamato per dirigere il doppiaggio di questo importantissimo film non un direttore del settore, ma il regista e sceneggiatore di film come Carosello Napoletano, Ettore Giannini. Giannini sceglie un cast d'eccezione. Per il mito e protagonista del film Marlon Brando viene scelto quello che negli anni si è imposto fino a diventare la sua voce ufficiale, Giuseppe Rinaldi, che riesce a donare al padrino Don Vito Corleone un'umanità e gentilezza che contrasta molto con il suo ruolo, ma che riesce a fare affezionare il pubblico. Per il giovane coprotagonista Al Pacino, a suo primo ruolo importante, viene chiamato un doppiatore anch'egli da poco sulla cresta dell'onda per aver dato voce a Dustin Hoffman qualche anno prima in film come Un uomo da marciapiede e Piccolo grande uomo, Ferruccio Amendola. Amendola, con il suo timbro sporco, riesce perfettamente a far percepire allo spettatore l'evoluzione che il giovane Michael Corleone avrà nel corso del film. Completano il cast Vittoria Febbi, voce di Diane Keaton, Kay Adams, Cesare Barbetti, voce di Robert Duval, Tom Hagen, Pino Colizzi, voce di James Caan, Sonny Corleone, Rita Savagnone, voce di Talia Shire, Connie Corleone e Riccardo Cucciolla, voce di John Cazale, Fredo Corleone. Nel 2008 Coppola decide di effettuare un nuovo doppiaggio alle prime due pellicole della trilogia del padrino per consentire un audio adatto al nuovo supporto tecnologico, il DVD, e chiama Rodolfo Bianchi per scegliere le nuove voci. Vengono chiamati così Stefano De Sando per il protagonista Don Vito Corleone, Massimo Rossi, Michael Corleone, Roberta Pellini, Kay Adams, Angelo Maggi, Tom Hagen, Sonny Corleone, Roberto Pedicini, Franca D'Amato, Connie Corleone e Oliviero Dinelli, Fredo Corleone. Il lavoro del ridoppiaggio si rivela molto fedele all'originale, infatti viene ripristinato il nome di Don Barzini, mentre nel primo doppiaggio diventava Don Barresi, e vengono mantenuti i dialoghi italiani di attori come Angelo Infanti e Saru Urzi, che si ridoppiavano nella prima versione. Ma i fan protestano, ritengono che i doppiaggi originali di film storici siano intoccabili, specie uno come questo, e portano ad un ripensamento della distribuzione, che decide di editare entrambi i doppiaggi, lasciando al pubblico la libertà di scelta. Io personalmente sono cresciuto con la prima e più famosa versione. E voi? Continueremo ancora a parlare di cinema, di serie tv e naturalmente di doppiaggio sempre qui sul blog di Voci.fm, il sito delle voci. Un saluto da Alessandro Delfino. Voci.fm, il sito delle voci.